e siamo ritornati ovviamente in studio siamo ancora ad angoli vi ricordo brevemente il nostro indirizzo di posta per restare in contatto con la nostra redazione basta inviare una mail all'indirizzo angolichiocciola espansionetv.it come vi ho detto tutta questa puntata di angoli questa serata è dedicata alla giornata del 25 novembre giornata mondiale dedicata appunto alla lotta contro la violenza sulle donne e ne parliamo con le altre ospiti che sono qui con noi questa sera saluto e ringrazio Margherita Galimberti ciao Margherita grazie per essere qui con noi tu sei operatrice del centro antiviolenza telefono donna como e qui già abbiamo tantissime cose da dire non sei sola saluto e ringrazio Arianna liberatore ciao Arianna grazie anche a te per essere qui in questa serata così importante tu sei avvocato quindi insomma hai tutto questo aspetto così importante da raccontare tante le iniziative che sostieni e che ci illustrerai nel dettaglio come abbiamo detto domenica una giornata molto importante Margherita tu lavori costantemente all'interno di queste realtà che cosa significa esserci dentro sempre io ci tengo ad iniziare a dire che per noi un po il 25 novembre un po tutto l'anno 365 giorni all'anno noi siamo il centro antiviolenza che lavora sul territorio dal 1991 quindi di esperienza ne abbiamo di donne che si sono rivolte a noi ce ne sono state ma quello che sono qui a descrivervi oggi è soprattutto un luogo per le donne un luogo che è stato pensato da donne creato da donne per dare supporto sostegno solidarietà a donne che vivono situazioni di violenza e maltrattamento un numero noi siamo ad oggi si sono rivolte a noi 238 donne di queste 200 donne sono donne che per la prima volta hanno deciso di raccontare la storia di violenza e chiedere aiuto la violenza è un fenomeno trasversale che coinvolge tutte le classi sociali non possiamo fare un identikit della donna che è vittima di violenza e maltrattamento in famiglia da noi si rivolgono donne che hanno diversi titoli di studio come si rivolgono a noi le casalinghe la maggior parte sono donne italiane che si rivolgono a noi che hanno compagni mariti italiani arianna ti ho visto annuire quando margherita ha detto non si può fare un identikit della donna che si trova in queste situazioni nella tua esperienza e nella tua collaborazione cosa vuoi aggiungere visto che appunto ti aveva colpito è vero è vero questo è un fenomeno che davvero non lascia fuori nessuna sia dal punto di vista culturale ecco magari uno pensa vabbè è un fenomeno che riguarda soltanto donne che hanno poca cultura o che vivono magari ai margini della società non è vero non non è un problema che si limita diciamo ad un territorio ad un territorio particolare anche diciamo coinvolge donne di tutte le nazioni noi abbiamo anche tante donne straniere vero la maggior parte sono italiane ma ci sono tante donne straniere ci sono donne arabe per esempio no che si ribellano ad una situazione di violenza ma soprattutto la cosa importante è che anche una donna colta e che ha una magari una sua affermazione nella nella società perché ha una vita professionale intensa e realizzata e tutto quanto può essere vittima per esempio di maltrattamenti ed avere difficoltà a denunciare questa cosa quindi attenzione a parlare di questa cosa come una roba che è di poche che è distante da noi e di tutte noi anche perché è tristemente diffuso poi andremo su questo argomento nuovamente con margherita io credo sia tristemente diffuso anche laddove magari non lo immaginiamo ma se non siamo noi dirette protagoniste purtroppo non possiamo escludere che persone che ci sono magari molto vicine possano invece esserlo e quindi in questo caso ci vuole attenzione e un occhio di riguardo verso chi magari ancora non ha la prontezza e la forza per raccontare tra l'altro margherita tu hai citato una data molto indietro nel tempo se non sbaglio 91 in tutti questi anni come sono cambiate le cose nel senso in peggio ma non saprei dire se sono cambiate in peggio forse è cambiata la consapevolezza delle donne che si rivolgono a noi fortunatamente di di questo fenomeno se ne parla che fosse anche solo per il 25 novembre ma rispetto al 91 quando davvero delle donne lungimiranti hanno hanno pensato e hanno deciso di impegnarsi su questo tema forse il cambiamento è stato questo che se ne può parlare è ancora la punta dell'iceberg è quello che noi vediamo c'è davvero tanto sommerso in questo fenomeno però forse le donne hanno la possibilità e sanno che c'è un posto ci sono dei posti a cui possono rivolgersi sono dei posti sicuri margherita dalla tua esperienza cerco di approfittarne il più possibile anche se il tempo è poco qual è l'elemento che fa switchare la donna vittima e la porta finalmente a rivolgersi per esempio al vostro centro allora possono essere tanti gli elementi che fanno cambiare fanno fare questo passo alle donne tante volte sono il coinvolgimento magari dei figli quindi gli episodi di violenza che non sono mai avvenuti davanti ai figli poi problema della violenza assistita è anche anche quello un gravissimo problema e sappiamo che coinvolge moltissimi minori sul sul nostro territorio però magari quell'episodio che avviene proprio davanti agli occhi dei figli può far scattare ti dico un'altra cosa è giusto capita magari che l'episodio avviene davanti ai nipoti e questo fa prendere consapevolezza non tanto perché la donna dice voglio tutelare me stessa ma voglio tutelare i miei figli quindi magari quello può essere il punto di partenza quello che fa scattare o anche semplicemente spesso le donne che vengono noi magari si rivolgono al pronto soccorso alle forze dell'ordine e quello che dicono è nessuno me l'aveva mai chiesto quindi basta davvero chiederlo quindi si ritorna anche sul coraggio di chiedere ariana invece vengo da te anche in veste di legale perché vorrei che tu sottolineassi che cosa significa ricevere violenza o meglio per violenza cosa si intende solo la violenza fisica o anche altro allora ti ringrazio per questa domanda perché mi dà l'occasione per dire che e ribadire perché sono una cosa che dico tengo sempre a mente e dico sempre quando ne ho l'opportunità che una donna vittima di violenza non è come una donna vittima di un altro reato e perché la violenza è una cosa che ti coinvolge anche dal punto di vista emotivo e soprattutto quando si denunciano delle situazioni che riguardano la nostra vita familiare e parlo per esempio delle situazioni di maltrattamenti che comunque molto spesso sono accompagnate anche da violenza sessuale tu praticamente diciamo tra virgolette metti in piazza la tua storia la tua vita e metti in discussione tutto quello che hai fatto i tuoi affetti e quindi questo è diciamo è una cosa che mette fa diciamo sentire la donna in una situazione veramente di disagio è per quello che il sostegno deve essere diciamo a tutto tondo quindi perché noi lavoriamo in equip e la violenza diciamo quella fisica è quella che si vede e anche quella più facile da provare nei tribunali perché molto spesso è accompagnata da referti e quindi da documenti che sono facilmente riconoscibili dall'autorità giudiziaria quindi il pronto soccorso che ci dava il pronto soccorso pronto soccorso ci aiuta tantissimo ma c'è tutto invece un'altra violenza e che fa male che non è la fisica che ti distrugge psicologicamente io dico va a minare proprio quelle che sono le tue fondamenta distrugge la personalità di una donna per esempio con insulti ingiurie quotidiane da parte del che ingiuriata tutti i giorni insultata e viene proprio svilita in tutte le le situazioni se una cattiva madre cioè le donne che vengono da noi sono convinte spesso che perderanno i bambini perché non sono delle buone madri quindi anche un'autostima minata alle radici la stima proprio viene meno completamente questo tipo di violenza accompagnata quella economica per esempio cioè ti tolgo molto spesso le donne ancora non sono autosufficienti e quindi anche il fatto di dire non ti do la possibilità di fare la spesa non ti do i soldi per prendere questa cosa è più difficile da provare perché per esempio il reato di maltrattamenti in realtà può diciamo accogliere anche ipotesi di violenza psicologica e violenza economica però io dico che è molto poi difficile provarlo allora ragazze purtroppo il nostro tempo a disposizione come sempre soprattutto su questi argomenti così importanti vola gli eventi velocissimi così li ricordiamo se permetti guardo certo ce ne sono e la regia ci aiuta con le locandine vai ariana allora intanto anch'io sono d'accordo con margherita non può non il 25 novembre non è che può essere una giornata un momento commemorativa è soltanto un diciamo uno dei tanti passi che si fanno è un po' un'occasione per riflettere su quello che stiamo facendo io sono molto fiera di questo progetto che stiamo facendo in carcere con quindi la casa circondariale di como con la comandante con la direttrice del carcere che guarda caso sono donne e perché poi quando arrivano le donne le cose cambiano e con le donne giuriste con le avvocate del comitato pari opportunità quindi in particolare l'ivia sarda e quindi insieme siamo entrate nel carcere per dare la possibilità anche alle donne che vivono una situazione come quella di chiusura estrema come quella di della detenzione carceraria abbiamo dato loro la possibilità di parlare di queste cose e devo dire che è stata una cosa che a me ecco cioè io mi commuovo perché vedere che anche all'interno del carcere si possono fare delle delle riflessioni e insieme si può riuscire magari a uscire da un percorso di violenza per me è una cosa davvero emotivamente molto forte e devo dire che poi lì loro hanno deciso di contribuire spontaneamente con un loro monologo con l'aiuto della regista Cazzaniga che ha scritto questo pezzo l'ha fatto interpretare e quindi poi con l'intervento anche delle istituzioni c'è la presidente del tribunale che è molto importante c'ha sempre diciamo seguito in tutte le cose Arianna veloce gli altri eventi velocissime allora il 23 novembre questa è la cosa cui tengo particolarmente la nostra sede sarà aperta sarà aperta a tutti e proprio perché ci deve essere una continuità in quello che facciamo quindi veniteci a trovare tutti veramente è dalle 11 alle 4 e mezzo ci saranno saluti dell'istituzione di chi vorrà partecipare e letture approfondimenti ci sarà un monologo presentato da una giovane attrice e ci saranno anche dei biscotti e caffè per tutti e questo non guasta mai e da ultimo veloce veloce 25 novembre anche le ginnaste ci danno una mano e quindi presso l'auditorium di Lipomo ci sarà questa manifestazione poi il ricavato verrà dato ai centri a meno parte del ricavato e poi l'ultimo è il primo dicembre antigoni i no della storia e che possono aiutare anche a sconfiggere la violenza di genere quindi con la organizzato dal con la nostra partecipazione dal comitato pari opportunità dell'ordine e dalle donne giuriste allora davvero appuntamenti imperdibili soprattutto quello appunto con la data del 25 che come giustamente abbiamo detto è uno spunto ma questo impegno ci deve essere sempre contro appunto la violenza io ringrazio Margherita Galimberti e Arianna Liberatore e rivediamoci prestissimo continuiamo a parlare di queste cose qui ad Angoli grazie per essere state qui prima di salutarci velocissimo un'altra cosa alla quale tengo ve lo ricordo ancora sabato 24 novembre un altro appuntamento da non perdere quello con la colletta alimentare per essere solidari e aiutare le persone che sono povere che sono meno fortunate che in questo momento si trovano davvero in difficoltà può capitare anche questo a chiunque di noi quindi dobbiamo essere solidali e vicini a tutti quanti bene grazie ce l'abbiamo fatta abbiamo detto tutto grazie per essere stati con me ci rivediamo domani e tra poco c'è il TG grazie a tutti